ciao bentornati a tutti vediamo il trade fatto sul titolo era e chiuso ieri perché questa scelta di vedere questa questa operazione perché era è un titolo importante presente nel fuzzini ma quasi mai menzionato sui social e così via titolo difensivo energetico ed è un titolo che in alcuni momenti è sicuramente tra quelli da preferire nei momenti in cui non si ha certezza che i rialzi diffusi in borsa possano proseguire e quindi è bene rivolgersi verso titoli difensivi quindi titoli come appunto le utilities o titoli alimentari e era è un titolo che ha un beta inferiore a 1 si intende il beta inferiore a 1 quindi la volatilità dell'indice e la volatilità del titolo in questo caso la volatilità di era inferiore a quella dell'indice quindi permette di avere un po più di protezione nei casi che l'indice vada a fare delle delle discese è un titolo che rispetto ai suoi competitor o titoli similari come ad esempio enel era rimasto molto indietro qui siamo sul weekly abbiamo visto un profondo down trend e poi si era formato un chiaro triangolo rialzista candela settimanale che va in rottura candela della settimana successiva che va a fare il pullback e a 3 28 siamo entrati long dando dando anche segnalazione sui social della della dell'operazione anche sulla nostra app chiaramente quello che poi è successo e vediamo adesso il time frame weekly ieri ho scelto di chiudere il long a 3 e 70 circa perché si era avuta prima questa pin bar questa shooting chiarissima poi la candela rossa che forma con la precedente un pattern oggi il titolo va di nuovo al rialzo ma si dice sempre vendi guadagni e pentiti aveva un target più alto nel medio periodo ma qui arriviamo su questo livello di resistenza speravo non desse segnali di candele ribassista invece pin bar poi candela rossa fare in golf in beric quindi mi sono deciso a prendere profitto qui siamo sul daily ma vediamo semplicemente andiamo a riprendere quello che era il nostro livello di ingresso eccoci qua lo possiamo vedere sul daily queste sessioni erano la candela verde settimanale che rompe il il nostro il nostro triangolo rialzista siamo entrati a 3 28 quindi all'incirca questo livello e poi siamo stati a bagno sia senza essere le carne e pesce andando in sofferenza un po in profitto per da da fine marzo fino a 20 di aprile quindi per anzi fino al dici fino al 19 20 e 21 di aprile siamo stati quindi quasi per un mese senza avere cenni di strappi rialzisti è chiaro che occorre pazienza in questa attività fondamentale credere nella bontà delle proprie analisi ed attendere senza stare a morire a guardare il grafico sale non sale eccetera eccetera si vada a scegliere la size corretta si vada a posizionare uno stop ben protetto e poi si vadano a guardare altri grafici senza morire dietro al cellulare smanettando per vedere se fa più 0 2 o meno 0 2 qui c'era una situazione rialzista chiara prima falsa rottura il prezzo galleggia intorno a questo livello e poi e poi correttamente parte da notare come il 10 maggio siamo in area 3 e 45 entrati a 3 28 quindi già in buon gain e qui si sarebbe potuto in teoria già dire ok metto lo stop a pareggio se avessimo messo lo stop a pareggio avremmo rischiato tantissimo perché perché su questa su questa pin il prezzo va a fare i 3 30 noi siamo entrati a 3 28 quindi è da vedere come in questa sessione sui minimi il 12 maggio quindi dopo un mese in mezzo dall'ingresso si fosse tornati in questo momento alla partenza e questo può essere frustrante ripeto è chiaro che non si può andare a mettere una size grossa bisogna fare in modo che il trade sfoghi la sua volatilità senza che il trader senza che che noi si stia troppo in ansia perché perché altrimenti si va a chiudere troppo presto questa candela che poi è stata riassorbita dai compratori questo livello ha funzionato perfettamente come supporto questa candela però nel momento in cui va a toccare il supporto era una candelona rossa e qui e qui ci sarebbe stata la tentazione di dire ok non ce la fa salire se addirittura rompe il supporto va a finire che vado in stop loss quindi ci sarebbe stata la tentazione quasi di chiudere in profitto e poi ci saremmo mangiati le mani vedendo quello che è successo dopo non abbiamo chiuso in profitto o in pareggio sarebbe stato diciamo una vittoria di pirro non avremmo guadagnato nulla non l'abbiamo fatto perché per un fatto di money management ossia non l'abbiamo fatto perché abbiamo inserito una size corretta la quale non ci preoccupava assolutamente nel caso di stop loss preferiamo avere molte operazioni aperte tutte con size contenute in modo che ognuna di esse non ci dia ansia e di fatti poi la strategia ha portato a fare un più 13 per cento di guadagno con il test di area 375 3 a 370 ieri e 370 ieri abbiamo chiuso ecco quindi l'invito è sempre a cercare grafici che abbiano dei livelli chiari ad aver fiducia e non aver fretta perché non dobbiamo noi lavorare per la borsa ma il contrario la borsa è giusto che lavori per noi e la fatica espressa profusa nel cercare nel grafico giusto nel fare l'analisi eccetera eccetera è bene che poi venga ripagata dal grafico stesso poi quindi lo si lasci lo si lasci lavorare un saluto a tutti e buon trading grafico 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 Grazie a tutti.